primi in esecuzione ragazzi al buffet ecco qua grande andrea gli occhietti alla boscaiola ecco qua come si vuole vedere gli occhietti alla boscaiola ecco qua invece abbiamo cappellacci qua si dopo facciamo il ripasso voilà grazie perfetto allora quelli sono per la rifare del italiano vegetariano pensavo che era la signora